Ischia, isola bagnata dal mare e allagata dalle piogge, che nelle ultime ore ha creato dei veri e propri fiumi d'acqua per le strade di tutti i comuni. Di conseguenza anche il traffico si è letteralmente paralizzato, soprattutto nelle ore di punta. Da Piazzale Aragonese, che non è nuovo a queste situazioni, al Barcalise di Piazza degli Eroi, via Fondobosso e le strade del centro di Ischia, da Via Marina a Casamicciola, dove è saltato un tombino che ha bloccato l'intera zona, a Via Marina a Forio, tante strade erano e sono in parte inondate dall'acqua piovana. All'acqua meno il corso principale, completamente allagato, ha visto Michele Schiano protagonista di un particolare episodio. L'artista isolano, vista la presenza di acqua alta, ha deciso di attraversare la strada in canoa, pubblicando un simpatico video sui social. A Ischia, le biglietterie della Medmar nel parcheggio Guerra sono state inondate d'acqua e costrette alla chiusura, creando il caos sul porto, dove si sono precipitati molti passeggeri in partenza. Nel comune di Barano, precisamente a Testaccio, Piazza Mar de Plata, solita a questi problemi, è stata bloccata dall'acqua alta, ma fortunatamente in tempi record è stata liberata. Insomma, tutta l'isola, nella giornata di domenica e anche in queste ore, si è trovata in tremenda difficoltà. Visto il peggioramento delle condizioni meteo e in virtù dell'allerta di colore arancione diffusa dalla Protezione Civile della Regione Campania, i sindaci isolani ed il commissario di Casamicciola Calcaterra hanno disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio isolano per la giornata di lunedì 26 settembre. Tutto regolare, invece, per la giornata di martedì 27 settembre. E tra i tanti disagi causati dal maltempo a farne le spese maggiori è stato il porto di Ischia, che ha vissuto una domenica davvero bestiale. Con le biglietterie chiuse, in parte sul piazzale del parcheggio Guerra, molte auto si sono riversate sulla banchina e sul ponte che conduce al porto, mescolandosi con le auto in arrivo e causando la paralisi del traffico. Sotto la pioggia abbattente è stato difficile per gli addetti ai lavori gestire i consistenti flussi in arrivo e in partenza, prolungati tra l'altro anche nella giornata di lunedì, e i disagi sono stati davvero tanti. Per non parlare dei ritardi notevoli di traghetti agli scaffi che hanno dovuto fare anche i conti con le condizioni meteomarine. Nel corso del pomeriggio la situazione è leggermente rientrata, eppure nella giornata di domenica si è verificato un episodio, per certi versi, simpatico, per altri davvero drammatico. Il traghetto Caremar in partenza per Napoli avrebbe dovuto lasciare il porto di Ischia alle 17.20, ma è arrivato sull'isola, pensate, solo alle ore 18.00. Completate le operazioni di sbarco, ha iniziato l'imbarco delle auto in attesa, ma in poco tempo le operazioni sono terminate. Così poche auto si sono chiesti in tanti. Il traghetto alza allora il portellone e molla gli ormeggi. Nel frattempo però arrivano in banchina una ventina di auto che erano in attesa al parcheggio guerra e ovviamente si è creato un nuovo caos. Fortunatamente il traghetto era ancora in porto e la capitaneria ha chiesto al traghetto stesso di rientrare per poter caricare anche le auto rimaste a terra. Chiaramente si è trattato di un errore di comunicazione tra l'equipaggio, chi era in banchina e chi era sul parcheggio guerra. Numerosi disagi anche a bordo di aliscafi e traghetti con diverse infiltrazioni d'acqua. Scene comiche per chi era presente, ma inaccettabili per una località che vuole vivere di turismo.